Ciao ragazzi, benvenuti alla nostra serata della presentazione del calendario di Papillo 2013. Ciao Papillo.it Il amor me quema, la musica suena, la noche di cristalli, bellezza è il cielo. O malea sin pala, o matela, non ci samba. Il amor me quema, la musica suena, la noche di cristalli, bellezza è il cielo. Ciao, sono Ilaria, è stata una bellissima esperienza fare questo calendario, e niente, ciao Papillo. Mi chiamo Veronica, ho fatto questo calendario perché mi sono proposto da Stefano, insieme a Daniele. Ed è stata un'esperienza davvero bella perché mi sono divertita, è stata un'esperienza nuova. Sono contenta di averla fatta perché mi sono divertita a un casino. Sono Monica, la creatrice degli abiti che avete visto sfilarci questa sera. Abiti che ho realizzato personalmente per una donna decisa, indipendente, sempre sicura nell'abito che indossa. E a questo scopo ho scelto di chiamare l'hairstylist Simone Curci, il più idoneo a pettinare ogni donna in modo adeguato al proprio carattere, al proprio vestire. Ho deciso di pettinare queste ragazze con un look accattivante, proprio per dare una impronta più decisa agli abiti di Monica. La ringrazio di questo, grazie a papido.it